Rimanere chiusi in casa è dura e c'è chi proprio non riesce a fare a meno di uscire a prendere una boccata d'aria. Tra questi le 17 persone della provincia di Chieti denunciate dalla Guardia di Finanza, nel dettaglio 9 a Lanciano e 8 tra Ortona e Francavilla al Mare. Secondo quanto impone il decreto emanato dal Presidente del Consiglio, infatti, è permesso di uscire esclusivamente per motivi di lavoro, salute o per altri motivi di comprovata necessità. Ma i 17 denunciati, a quanto riportano le forze dell'ordine, erano in giro senza un valido motivo. A Fostacessia due uomini sono usciti a far benzina in un altro comune, benché anche in quello di residenza vi sono dei distributori. A Lanciano tre persone sulla strada senza alcuna giustificazione. E ancora un altro beccato fuori da un pub chiuso per usufruire del wifi del locale. Altre due ragazzi a passeggio in compagnia di una terza persona appena giunta dall'estero. In Italia finora sono state denunciate, per aver violato il decreto, circa 8.000 persone. Un numero questo che cresce in fretta, quasi quanto quello dei contagi. E in alcune regioni si iniziano a controllare anche le celle telefoniche per monitorare gli spostamenti dei cittadini. E mentre chi può rimanere a casa vorrebbe uscire, c'è chi non ha la stessa possibilità di tutelarsi. Basti pensare al personale sanitario, che svolge turni massacranti e spesso senza nemmeno le dovute precauzioni. O agli operai di fabbriche e magazzini, che ogni mattina affollano i mezzi pubblici per andare al lavoro. Oppure ai reclusi, o ancora ai senza tetto. Oppure ai rider, che sfrecciano a far consegne di casa in casa, spesso dovendo raccattare da sé mascherine improvvisate. Il decreto Restiamo a casa invita alla delazione, ovvero alla denuncia di normali cittadini nei confronti di chi infrange reati da coronavirus. Ma sulla legittimità di questi veri e propri controlli di vicinato si sta sviluppando un aspro dibattito. Intanto i controlli della Guardia di Finanza della provincia tetina proseguono anche sulle attività commerciali e su chi specula su mascherine e disinfettanti. Sempre a Lanciano due soggetti denunciati, poiché intenti a lavorare nel proprio ristorante. La Polizia Municipale di Silvi, invece, fa sapere che finora sono state controllate circa 2.600 persone e 80 attività commerciali.